Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Io sono Simone e come promesso, visto che abbiamo raggiunto i 300 mi piace al video precedente, questa volta vi propongo una example solve utilizzando il metodo blindfolded. Quindi, utilizzando il metodo che vi ho insegnato tempo fa per risolverlo ad occhi chiusi, andremo ad esaminare questa risoluzione. Prima di tutto prendiamo il cubo e con la faccia verde davanti e con la faccia bianca in alto andiamo a scremblare il cubo. Lo scrembl è questo, L2, B', U2, D2, U2, L2, D2, B, U2, F, L', U', F, R, D, R2, B, R', D', U', R, W, U, W. Ed ecco fatto! Questo è lo scrembl. Prima di fare qualsiasi cosa posizioniamo appunto il cubo nel giusto orientamento. Il mio orientamento è sempre con il verde davanti e il bianco in top. Adesso vedo subito che ho uno spicolo flippato, da flippare comunque, e questi due angoli già risolti. Quindi ecco, questo mi semplificherà nel lavoro perché avrò da fare delle cose differenti rispetto al solito. Quindi, primo passo è memorizzare gli spicoli. Primo spicolo da memorizzare ovviamente è quella in posizione buffer, che è questo spicolo qua. Ora, utilizzando le lettere che avevo insegnato nel video precedente, questo sticker deve finire in questa posizione qua, che corrisponde alla lettera K. Quindi, memorizzo K. Adesso, vediamo questo sticker qua, che siccome fa parte del buffer, io dovrò già rompere un ciclo. Quindi, devo subito iniziare un nuovo ciclo. E per fare questo, quindi, devo scegliere un altro sticker. Io, ad esempio, potrei scegliere questo sticker qui perché al momento mi torna comodo. Quindi, scelgo questo sticker, che sta per F. Quindi, le lettere che ho memorizzato fino ad adesso sono K ed F. Poi, questo sticker deve finire qua giù in basso, che corrisponde alla lettera X. Quindi, memorizzo X. Questo sticker deve finire qua, che corrisponde allo sticker R. Quindi, memorizzo anche R. Poi, questo sticker finisce qua giù in basso. Quindi, memorizzo Z. Poi, questo sticker finisce qua, dove ci sta la lettera F. Quindi, memorizzo F. E, siccome sono tornato nel punto in cui avevo iniziato il ciclo, allora, termino questo ciclo. E, siccome ho finito il ciclo, mi potrei fare la domanda. Ma ho finito di memorizzare tutti gli spigoli? Beh, no. Perché, ad esempio, da questo spigolo qui non ci sono mai passato. Come neanche da questo, come neanche da questo. Quindi, il cubo non è ancora risolto e devo aprire nuovamente un altro ciclo. Quindi, scelgo uno sticker che non ho risolto ancora. Ad esempio, proprio da questo sticker qua. E lo memorizzo. Quindi, iniziando un nuovo ciclo, memorizzo C. Adesso, questo sticker dovrà finire qua, che corrisponde alla lettera J. Quindi, memorizzo anche J. Questo sticker finirà di qua, che corrisponde alla lettera T. Memorizzo T. Questo sticker dovrà finire qua, quindi memorizzo U. Questo sticker finisce qua e devo memorizzare A. Questo finisce qua e memorizzo E. Adesso, siccome sono tornato nello spigolo da cui avevo iniziato l'ultimo ciclo, interrompo anche questo ciclo. E, teoricamente, sono passato da tutti gli spigoli. Dico teoricamente perché da questo spigolo non ci sono mai passato. Ed infatti questo spigolo va flippato. Per flipparlo posso memorizzare semplicemente D e poi Q. Quindi, le lettere che fanno parte di questo spigolo. Potrei, alternativamente, memorizzare Q e poi D. Non sarebbe cambiato niente. Ok? Benissimo. Adesso potrei già capire se c'è la parità o meno. Ma, siccome ho memorizzato un numero pari di lettere, in questo caso 14, non ho la parità. Perché, appunto, la parità ci sarebbe stata se avessimo memorizzato un numero dispari di lettere. Quindi, procedo e vado avanti con il prossimo step, che è quello di memorizzare gli angoli. In questo caso, gli angoli si parte, appunto, dal buffer, dal pezzo buffer, che è questo qua, e dovrà finire qua dietro. Quindi, memorizzo la lettera P. Adesso, questo sticker deve finire qua giù in basso, quindi memorizzo anche V. Poi, questo sticker deve finire qua, quindi memorizzo la lettera I. Quindi, siccome adesso sono finito in questo sticker qua, ma questo sticker qua dovrebbe finire qua. Però, ricordiamoci che questo è l'angolo buffer. Quindi, a questo punto, interrompiamo il ciclo e iniziamo il ciclo da un'altra parte. Ad esempio, da questo sticker non ci sono mai passato e potrei iniziare memorizzando B. Poi, questo sticker finisce qua giù, in corrispondenza della lettera T. Poi, questo sticker finirà qua, in corrispondenza della lettera J. Adesso, siccome sono ritornato nel punto in cui ho iniziato il ciclo, anche questo ciclo si interrompe e siccome non ho altri angoli da cui passare, infatti questi due sono già stati risolti, il mio cubo sarà completamente memorizzato. Quindi, adesso ci dovremmo bendare o chiudere gli occhi e iniziare a risolvere seguendo la sequenza di lettere che ho memorizzato. Ovviamente, non vi faccio vedere l'esecuzione della solve perché, secondo me, risulterebbe un po' noioso da guardare. Infatti, la chiave fondamentale è capire bene qual è la giusta sequenza di lettere da memorizzare. E questo ve l'ho spiegato, appunto, in questo video. Dopodiché, l'esecuzione non si tratta altro che applicare la T.perm per gli spigoli o la Y.perm per gli angoli usando le opportune setup move. Quindi, ecco, potete fare anche benissimo da voi. Spero che questa example solve vi sia piaciuta e se volete altri video del genere dove, appunto, spiego come ragionare sulla risoluzione dei vari cubi, lasciate tanti tanti mi piace che, una volta raggiunti i 300 like, pubblicherò un altro video della serie. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!